La domenica dopo finalmente si torna, si torna dopo tre mesi, Barba ritorna, anzi dopo tre mesi, Barba ritorna a Vittoria Casanica, siamo stati una vittoria colligata, l'inizio del mese di dicembre, l'inizio del mese di marzo, arriva quella contro l'inizio. La vittoria è sofferta, meritata, ma sofferta, sicuramente sul calcio che usate, su una rigore, realizzando, del solito, il contatto di questa prende, si trasconde tutto a vera, poi con un contramena a sestate, con il solito avvenuta, con, venite, sulle linee di fondo, un difensore che respinge con la mano, una situazione simile, si era avuto da una parte a controllare, l'arbitro decreta la massima produzione e inizia la reddita con la solita intracami di pretenza, ricordiamo che l'arbitro, adesso, e poi, con il giardiniano del Dattorio, il Dattorio continua ad attaccare, se la ripresa il mondo cerca anche qualche occasione da noi, ma, finalmente, giunge questa vittoria a minacciare un po' di qualche battaglia, ma, anche se a questo punto, ormai, si parla di vivere la giornata, e l'onore di riuscire ad agganciare qualcosa di più, anche perché si attende la sentenza della disciplinare, e nella settimana successiva, per il caso del Dattorio, che è avuto di meno in agroalto, e che è il giardino interattato della giornata. Grazie a tutti.